Mi fa molto piacere sentire l'intervento del collega Manichella e quindi mi aspetto che voti contro questa legge, dopo tutta questa bella dichiarazione. Io non potrò mai condividere una legge che di fatto è una legge che moltifica la democrazia e come tra l'altro se la democrazia in questo momento di grande crisi e di sofferenza popolare non cesse paura. Questa classe politica sarda appare impaurita, così impaurita da arrivare a procorre delle leggi così in modo goffo, delle leggi assolutamente repressive. Ma a questa provocazione io credo che i sardi sapranno rispondere, sapranno rispondere in modo pacifico e democratico, così come è sempre avvenuto nella storia. Mi ha colpito anche la dichiarazione invece del consigliere dell'EPA e cioè che mi è perso di capire se chiede la riduzione numerica al governo italiano facciamolo anche noi. Se non sbaglio, mi è perso di aver capire questo. Allora correggo il tiro. Questo mi è sembrato, non per altro, perché il mio incoraggio di stare dietro al governo italiano sinceramente non ce l'ho. Non è mai stata una mia vocazione. Comunque vorrei riportare l'attenzione dell'Aula sul fatto che a tutt'oggi non risulta, cioè la Costituzione delle Commissioni viene rinviata per l'ennesima volita. È come se tra i consiglieri del centro-destra non ci fossero persone autorevoli per coprire le presidenze. Quindi il problema è che in tempi di moralizzazione e di riduzione degli sprechi della politica dobbiamo prendere atto che le presidenze sono legate a spartizioni e alle relative indennità. Per cui io vorrei rinnovare l'invito alla Presidente Lombardo, se nascolto un attimino, a procedere ai tagli dell'indennità di carica. Io credo che questa misura risolverebbe sicuramente i problemi e consentirebbe sicuramente la ripresa dei lavori delle Commissioni. Quindi a tutt'oggi la Commissione Autonomia, altra nota, non ha risposto alla mia richiesta sull'esclusione della mia proposta di legge sull'abbattimento dei costi della politica. Per cui io vorrei avere una risposta scritta, continuo a insistere e continuerò, collega Pitalis, collega Pitalis, quindi niente, sarà registrato, prendato che dovrà dare una risposta scritta. Quindi la classe politica sarda continua a perpetuare la sua storica subittanza e sta permettendo che in Sardegna passi ciò che i padroni del vapore, quelli della globalizzazione mondiale, vogliono che avvenga. E cioè uscire dalla crisi limitando la democrazia e facendo pagare la crisi agli strappi sociali e agli economie più deboli e non di certo alle banche multinazionali. La gestione della crisi economica mondiale, secondo gli stessi analisti internazionali, non può prescindere da una diminuzione sostanziale dei livelli di democrazia all'interno dei singoli paesi. Questo è il diktat che il governo della finanza mondiale vuole imporre in Europa a tutti gli stati sull'orlo del fallimento. E' un fallimento così generato dalle stesse logiche della globalizzazione come la delocalizzazione delle imprese, quindi dell'industria, in Sardegna poi abbiamo una lunga storia, la rapina delle risorse economiche e ambientali, la distruzione dei territori e delle loro economie. E sì, c'è una profonda, non dico disattizione, potrebbero uscire oppure escono solo con lei, Presidente, a parlo con lei. Quindi nonché l'uso scelerato del debito pubblico dei singoli stati all'interno delle turbolenze e delle speculazioni finanziarie e mondiali. Quindi la Sardegna, colonia interna italiana e non so, italiana, oggi più che mai è stata al centro di queste dinamiche. Cosa faccio? Presidente, ne parlo con lei, mi rinvile, l'intervento domani, la prego. No, non le ho preso in tempo, è scritta oggi per poter sia, se può continuare, prego i colleghi di avere rispetto. Chi vuole chiacchierare lo faccio in tempo, non le ho preso la mano, proprio lei che richiama che ha capitanciato. No, mi dispiace perché io ho collegato allo scopo sempre con molta attenzione come faccio normalmente. Comunque, affinché tutto vada, secondo le logiche previste dal ristreggio dei campi internazionali, è necessario che i livelli di democrazia partecipata vengano drasticamente tagliati, in modo da far sì che l'eventuale reazione popolare venga messo un babaglio democratico. Tutto questo in nome di una demagogica riduzione numerica degli reti nelle istituzioni, ovvero una riduzione sostanziale della partecipazione popolare alle scelte politiche, economiche e sociali dei territori, delle regioni e degli stati. Si è arrivati anche a teorizzare in Sardegna, vedi discorsi di partisan, fatti in quest'Aula in Commissione Autonomia, che il numero inferiore dei consiglieri regionali è esso stesso sinonimo di efficienza, come se la produttività di ogni singolo consigliere fosse legata al numero degli reti nelle istituzioni e non al proprio impegno. Presidente, sarebbe interessante che lei tra l'altro facesse una verifica, oltre che sulle presenze, anche sulla produttività politica di ogni consigliere. Io credo che la storia a questo punto ce lo chiederebbe. In nessuna struttura, ancora o meno in quelle partecipative, si è rilevato che la riduzione del numero è direttamente proporzionale alla produttività. La logica del taglio numerico, perfettamente in linea con l'esclusione della partecipazione alla vita democratica e alle istituzioni della stragrande maggioranza delle collettività, è sposata indifferentemente e congiuntamente, seppur con variazioni di lessico, alla stragrande maggioranza di questa classe politica. Una classe politica allineata perfettamente a quella italiana. E io dico anche degna nipote di quei sardi che il 29 novembre del 1247 fecero la fusione perfetta e quindi rinunciarono alla propria sovranità istituzionale chiedendo a Carlo Alberto di essere considerati a tutti gli effetti piemontesi, sancendo con ciò giuridicamente e istituzionalmente la fine della sovranità del regno di Sardegna. Ok. Anche oggi si sancisce l'esclusione violenta, ma legalizzata, delle minoranze politiche, che stranamente sono da sempre una peculiarità della storia e della cultura politica del popolo sardo. Non mi stupirebbe che, stando così le cose, questa stessa aula, sotto ordine delle segreterie dei partiti italiani, arrivasse e sa stessa, per non essere costretta, ad abrogare lo statuto speciale e quindi la stessa autonomia regionale. Scusami, mi discuti molto. E se non mi fate parole, è la mia famiglia di prendere i problemi. Dì, io non lo faccio. Voglio ricordare a tutte le forze politiche presenti in aula che si sono espresse sulla sovranità come popolo e come nazione, che qui, visti i pronunciamenti, si dovrebbe legiferare per agevolare il percorso di un popolo che deve liberarsi dall'oppressione economico-coloniale e che ha il diritto inalienabile ad esercitare la propria sovranità, l'autogoverno e costruire il proprio cammino di indipendenza. Invece, ancora una volta, sul tema così importante della democrazia e quindi della rappresentanza, si importano i diktat, si importano i modelli e gli strumenti scelti dall'Italia e accettati passivamente e benevolmente dalla classe politica salla, con ciò dimostrando la propria subitanza e l'ammantanza di qualsiasi forma di autonomia storica, culturale e politica. Quindi il taglio alla democrazia è indispensabile, soprattutto in Sardegna, in quanto colonia. E quindi i conflitti assumono in colonia risvolti più aspri e gli inquilini del palazzo non devono essere disturbati un po' come sta succedendo adesso. Intanto la disperazione serpeggia tra la nostra gente, depredata da Equitalia, a cui lo Stato italiano in questi ultimi giorni ha affidato ancora più poteri per aggredire con maggiore violenza il nostro mondo europastorale, che tra l'altro è vittima delle stesse leggi regionali sballate e da un sistema di credito usuraio. L'entità della crisi economica in Sardegna, la crisi del livello di scontro tra lo Stato italiano e il popolo sardo, può portare inevitabili rivolte popolari per il pane. E noi questo dobbiamo metterlo in conto. Ecco perché il primo sistema di controllo è quello dell'abbattimento del livello di democrazia, con l'avvio di un sistema sempre più oligarchico, autoreferenziale e incontrollabile, specialmente sulle prebende, sugli sprechi e sulle gruberie. Vorrei anche ricordare l'evento di ieri a Mappomer con i pastori a proposito del Consorzio dell'Arte, quindi un sistema dove il conflitto sociale viene trattato come un problema di ordine pubblico, ovvero la ripressione militare. Vedi la manifestazione dei pastori a Cagliari, a Civitadecchia, alla Borsa di Milano, per non parlare poi dello sfratto forzato a Sanerra Segada. Quindi parlare di riduzione dei costi della politica, ovvero dei privilegi della cosdetta pasta e della complessa macchina regionale fatta di enti di agenzie e di strutture palazzitarie incontrollabili, significa entrare in merito, oltre ai privilegi, agli sprechi, agli abusi e all'innefficienza delle varie amministrazioni pubbliche che ricadono pesantemente sulle povere finanze della collettività, quindi sostenuta dalle imprese e dalle famiglie, sempre più prostrate. Questa è la nostra realtà. Perciò la riduzione drastica del 50% degli emorumenti ai consiglieri regionali deve essere il primo atto di un processo globale di democrazia e di moralizzazione della politica. La restituzione alla politica della gestione del bene comune non può prescindere da questi processi. Questo è l'unico percorso per la restituzione della dignità a una classe politica sempre più screditata, autodelegittimata e autorreferenziale. Mi scuso se ho disturbato Laura. Grazie Presidente.